La Corte d'Appello del Tribunale di Milano ha condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione il pediatra sondriese Andrea Scherini, che a fine 2018 era stato assolto in primo grado dall'accusa di violenza sessuale su minori. Il suo avvocato, sentenza non definitiva, ricorreremo in Cassazione. Si celebra domani 2 aprile la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, una ricorrenza che dal 2007 richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. A Sondrio due giorni di iniziative. Bormio Terme oggi e fino a domattina alle 8.30 ospita il tentativo di record 90 km 4.000 vasche della 24 ore di nuoto da parte del campione di Gravedona Andrea Oriana. Comunque andrà, sarà un'emozione. Un saluto ai telespettatori, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Sin da subito si dichiarò innocente e la soluzione piena in primo grado per Andrea Scherini arrivò alla fine del 2018. Il pediatra sondriese accusato di abusi sessuali su minori non era colpevole. Sentenza questa però totalmente ribaltata proprio nei giorni scorsi a Milano dove la Corte d'Appello ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione il professionista. Abbiamo sentito il suo legale, sentiamo le parole dell'avvocato Francesco Rumualdi. Per la legge italiana il soggetto deve essere condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Qui un giudice dopo un lungo processo di primo grado aveva assolto il dottor Scherini. Mi domando come da un punto di vista oggettivo si possa non ritenere che esistano dei dubbi dopo che un giudice ha ritenuto di assolvere il soggetto. La soluzione piena in primo grado per Andrea Scherini arrivò alla fine del 2018 dopo un incubo durato anni. Secondo la sentenza pronunciata allora dal giudice Fabio Giorgi, il pediatra sondriese accusato di abusi sessuali su minori non era colpevole. Sentenza questa però totalmente ribaltata nei giorni scorsi a Milano dove la Corte d'Appello ha condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione il professionista sondriese. Al centro della soluzione prima perché il fatto non costituisce reato e della condanna ora, una serie di riprese video della microcamera che era stata nascosta nello studio del pediatra dopo che una mamma aveva denunciato che il figlio aveva subito abusi durante una visita del dottor Scherini appunto. Dopo mesi di riprese e una serie di episodi visionati e considerati in qualche modo al di là della corretta pratica medica, per il pediatra scattarono gli arresti domiciliari. Allora Francesco Ormualdi, l'avvocato di Scherini, fece notare che le immagini potevano far pensare a degli abusi soltanto se scollegate dall'intero contesto mentre in realtà gli atteggiamenti del pediatra rientravano in una sua metodica di visita che nulla aveva in sé di morboso. Non l'hanno evidentemente pensata allo stesso modo i giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Milano che sulla scorta delle stesse immagini hanno ritenuto di condannare il medico 77enne a 4 anni e 8 mesi. Il processo d'appello è durato comunque 3 udienze, quindi è stato un processo lungo. L'atteggiamento della Corte aveva lasciato trasparire una evidente ostilità nei suoi confronti, quindi diciamo che l'esito non è stato un fulmino a cessereno. Attendiamo le motivazioni, la Corte ha preso 60 giorni di tempo per il deposito, quindi nei successivi 45 ci sarà il termine per depositare ricorso in Cassazione. Intanto questa clamorosa condanna, seppur non definitiva ma comunque particolarmente pesante se si considera la scelta del rito abbreviato che riduce di un terzo la pena, ritorna a far parlare di questa vicenda che già negli anni scorsi tanto suscitò scalpore a Sondrio e non solo. Le persone che conoscono il dottor Scherini e che in questi anni, quindi durante il processo, gli hanno dimostrato vicinanza non si faranno credo influenzare da quello che è un giudizio, peraltro non ancora definitivo il dottor Scherini. Non devo dirlo io, è persona notissima, è probabilmente il pediatra più noto di Sondrio, più seguito di Sondrio. A mio avviso, per quello che l'ho potuto conoscere, anche sentendo chi lo conosce, probabilmente è anche il più competente di Sondrio e quindi credo che non fa piacere ma è comunque contento del sostegno che tantissime persone gli hanno mostrato e tuttora gli mostrano. In Italia un bambino su 77 presenta disturbi dello spettro autistico. La giornata di domani 2 aprile celebra in tutto il mondo e sarà così anche a Sondrio la consapevolezza su questo che è un universo ancora tutto da scoprire. Dinanzi all'autismo la prima mossa da mettere in atto è quella dell'inclusione. Giuliano Padroni. Si celebra domani 2 aprile la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, una ricorrenza che dal 2007 richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Si stima che in Italia un bambino su 77 presenti disturbi di questa natura. Dati che sottolineano la necessità di politiche sanitarie certo ma anche educative e sociali che incrementino i servizi e migliorino l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie. Nel capoluogo previste una serie di iniziative grazie all'impegno del gruppo genitori autismo in Valtellina che è parte di Anfas. Questa sera al Cinema di Celsior verrà proiettato un film che si intitola Sul sentiero blu. Dei ragazzi autistici adulti percorrono 200 km dalla via francigena verso Roma e verranno poi accolti da Papa Francesco. È un progetto molto ambizioso che è stato fatto in collaborazione con il CAI, sezione di Torino, l'Asla e in particolare con il professor Keller che è un guru dell'autismo e il Rotary che ha finanziato il progetto. Nella stessa serata verrà presentato un libro che si intitola Lo spirito tra le radici che è stato scritto da Francesca Marchesini che è la sorella di una ragazza autistica grande di 22 anni. Domani poi giornata dedicata alla consapevolezza dell'autismo appuntamento alle 11 ai giardinetti Sassi di Via Piazzi a Sondrio dove verrà inaugurata una panchina blu scoperta una targa commemorativa e dato avvia ad una mostra fotografica che aprirà i battenti in questa giornata così tanto importante ma che va detto dovrebbe ricorrere non uno ma 365 giorni all'anno perché noi tutti abbiamo ancora molto se non tutto da imparare circa questo che è un universo a noi vicinissimo. Un grosso progetto che è stato fatto e che abbiamo presentato qualche mese fa era il Sondrio Autism Friendly. Vogliamo cercare di far diventare amichevole la città di Sondrio a un disturbo così particolare che è l'autismo. Infatti si parla di disturbo dello spettro autistico perché ha mille sfaccettature questo disturbo. Un altro grosso progetto che abbiamo messo in piedi è quello relativo ai fratelli perché è una parte della famiglia che di solito viene abbastanza ignorata, i famosi siblings cioè i fratelli di persone disabili. Abbiamo messo in piedi questo progetto per fratellini e fratelloni seguiti da una psicologa in modo che anche loro possono avere un loro spazio. E poi la scuola, i progetti di sensibilizzazione rivolti ai ragazzi, compagni di classe di tanti loro coetanei a volte particolari ma che nascondono dentro di sé una voglia immensa di amicizia e di amore. Il traguardo è l'inclusività, la sensibilizzazione, il pietismo quello no. E la direzione intrapresa nel capoluogo è quella giusta perché è qui che vedrà la luce un nuovo centro autismo, tutto nuovo, più grande, funzionale, meglio raggiungibile di quello attualmente a Mossini. Anche solo per scambiare due parole, noi siamo a disposizione anzi, se possiamo evitare quell'angoscia che abbiamo provato noi avendo in mano la diagnosi di autismo sarebbe veramente molto importante. Noi siamo a disposizione di tutti. Ora andiamo in Altavalle per un'impresa che comunque finirà, rappresenta comunque qualcosa di straordinario. Bormio Terme oggi e fino a domani mattina alle 8.30 ospita infatti il tentativo di record a 90 km per 4.000 vasche della 24 ore di nuoto da parte del campione di gravedona Andrea Oriana. Roberta Cervi. L'obiettivo è stabilire il record, nuotare per 90 km 4.000 vasche in 24 ore. Prove generali per la traversata del prossimo agosto dalle Marche alla Corsica. Andrea Oriana sceglie Bormio Terme che oggi propone agli utenti ingressi anche fino a mezzanotte per nuotare col campione. Questa 24 ore perché voglio rimettermi in gioco e soprattutto per esplorare i nuovi limiti che mi vedranno impegnata una traversata in Italia nell'agosto di quest'anno. Questa piscina è molto bella perché io ci vengo spesso perché ho la casa qui e poi perché ha delle condizioni di allenamento invidiabili, soprattutto l'acqua un pochino più calda del solito e la quota a 1.300 metri. Ho accolto questa proposta a braccia aperte perché comunque questi sono eventi di cui ci piace essere parte attiva, innanzitutto perché riguardano lo sport, lo stile di vita sano che da sempre contraddistinguono questa società. E in più avere professionisti come lui e il suo staff con cui potersi consultare, confrontare per quelli che sono i nostri utenti diventa un valore aggiunto da sfruttare a pieno. Le lancette dell'orologio avranno fatto un giro completo dalle 8.30 di questa mattina allo stesso orario di domani 2 aprile. Il supporto logistico è fantastico, Bormio Terme mi ha sempre venuto incontro e li ringrazio anche per questa possibilità delle 24 ore. Oggi sono invitati tutti per venire a farsi una nuotata o per vedere magari durante i loro piccoli allenamenti come mi allenerò, se posso dare qualche consiglio, se il mio staff può dare qualche consiglio, benvenga. La sicurezza bisogna sempre essere sicuri di se stessi anche se poi il risultato non viene, l'importante è mettersi in gioco, pensare positivo e poi alla fine si vince sempre qualsiasi sia il risultato. Delfino il suo stile, 15 volte campione italiano in gara alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, dal 2018 convertito alle Acque Libere, record italiano di traversata della Manica nel 2020 e del lago Titicaca, il più alto del mondo nel 2021. È un test, quindi ci servirà a rilevare dati come le andature, le frequenze di bracciata, il dispendio calorico durante tutte le fasi della giornata che si svilupperà. L'idea è quella di riuscire, di cercare di vedere fin dove si riesce ad arrivare nell'arco delle 24 ore. Presente la sua mascotte che ci si può giurare gli porterà fortuna. Beh, questa è una bella occasione per il mio papà che nuota 24 ore per la sua sfida e anche vederlo nuotare mi fa piacere. In Vasca le allieve Milena Malinverni, Chiara Di Lorenzo, Cannottieri di Lecco. Una giornata lunga una storia di passioni, amicizie e tanti messaggi da divulgare. Beh, sicuramente per i giovani adesso è importante buttarsi e provare a fare le cose con se stessi, perché se uno mette dentro tutto se stesso per fare una cosa, in realtà ha già vinto a prescindere dal risultato. Una giornata che coinvolgerà tutta l'utenza, potranno entrare e frequentare la struttura, aiutare Andrea a passare il tempo, nuotare con lui, parlare con il suo staff, confrontarsi, usufruire di tutti quelli che sono i servizi e poi domani mattina festeggiare con lui, laddove dovesse andare bene questo suo tentativo di nuotare 24 ore. Si chiama Il lavoro per te ed è il titolo scelto per il Festival del lavoro in Valtellina che si svolgerà nella cornice del Cast, il Castello delle Storie di Montagna di Sondrio, i prossimi venerdì e sabato 8 e 9 aprile. Oggi la presentazione, vediamo. La società migliore del mondo è quella che riesce a esprimere le opportunità per tutti, anche lavorative e anche per le persone con disabilità. Di opportunità per i giovani e per le persone con disabilità si parlerà venerdì e sabato prossimo a Il lavoro per te. Questo è il nome scelto per il Festival del lavoro in Valtellina organizzato da Consorzio Solco e Mestieri Lombardia in collaborazione con ANCI, Fondazione Cariplo e con il contributo di Regione Lombardia che si svolgerà nella cornice del Cast, il Castello delle Storie di Montagna a Sondrio. Il convegno è pensato su due giornate, l'otto dedicato al tema della disabilità e lavoro, persone con disabilità e lavoro e il nove pensato per giovani e mondo del lavoro. Questi sono i due target che principalmente hanno maggiore difficoltà nell'ingresso del mondo del lavoro. Le due giornate avranno diversi momenti di approfondimento anche attraverso l'illustrazione di iniziative realizzate e in corso sul territorio provinciale e regionale. Invitiamo realtà che raccontano la propria esperienza, invitiamo fondazioni che hanno finanziato progetti, invitiamo enti pubblici, invitiamo aziende, invitiamo operatori e realtà del sociale. Le mattinate sono prevalentemente pensate per gli addetti lavori, il pomeriggio del venerdì pensato per le aziende e il pomeriggio del sabato pensato per i giovani che stanno cercando lavoro. Il focus della giornata di venerdì prossimo sarà sul tema delle opportunità di lavoro per persone con disabilità. In questo senso un cambio di marcia finalmente può dirsi in atto e gli esempi non mancheranno. La visione rispetto a quelle che sono le problematiche della disabilità sono cambiate, stanno cambiando per cui la società sta diventando, deve diventare più inclusiva, cioè cercare di potenziare quelle che sono le abilità anche delle persone con qualche problematica e fare in modo che esse siano veramente una risorsa per tutta la società. Sabato 9 aprile invece fa ripuntati sulle opportunità per il futuro lavorativo dei giovani. In particolare sabato pomeriggio dalle due e mezza alle quattro e mezza abbiamo organizzato dei laboratori mirati per la ricerca del lavoro dei giovani, soprattutto Under 34. Organizzeremo due laboratori dedicati proprio alle tecniche per la ricerca del lavoro con Fabiana Manager che si occupa proprio di orientamento al lavoro soprattutto sui social, che parlerà di come costruire i primi passi nel mondo del lavoro e Francesco Giubileo, consulente per il lavoro, che invece affonderà sul tema della ricerca del lavoro online. In programma anche altri tre laboratori dedicati a specifici settori. Uno sull'agricoltura, come cercare lavoro in campo agricolo e quali opportunità ci sono sul territorio, uno sul turismo con ConfCommercio, mentre primo con la Coldiretti e con le cooperative sociali del territorio, un affondo su quali opportunità sono presenti in ambito sociale in provincia di Sondrio. Per accedere al festival sarà necessario il Super Green Pass. Invitiamo tutti a partecipare passando dal portale Evenbright e cercando il lavoro per te, acquistando i biglietti gratuiti. Nascono sempre meno bambini e il dato ovviamente si riflette anche sull'iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla primaria. Sondrio non è immune e è tanto da portare alla chiusura dell'asilo di Triangia. Troppo pochi infatti i nove bambini attualmente iscritti. Paolo Croce. I numeri sono impietosi. Solo nove bambini, mentre per tenere aperta una sezione ne servono almeno 18. Dopo il 19 aprile, quando si concluderanno ufficialmente le operazioni che identificano un numero preciso dell'organico destinato alla nostra provincia, la decisione diventerà inevitabile. La scuola dell'infanzia di Triangia, almeno per il prossimo anno scolastico, non aprirà i battenti, nonostante gli sforzi del comune di Sondrio. Questa è una cosa che ci dispiace molto, però certamente l'ufficio scolastico regionale e il nostro ufficio, l'ufficio scolastico provinciale, non possono derogare perché i numeri parlano chiaro. Comprendiamo questa scelta, anche se con grande dispiacere perché noi come amministrazione comunale abbiamo sempre puntato a favorire le scuole delle frazioni perché crediamo che il rapporto con la montagna e l'amore per la montagna si crei proprio fin dall'infanzia, potendo frequentare delle istituzioni scolastiche in ambienti decisamente favorevoli perché soprattutto la scuola di Triangia è un nostro fiore all'occhiello. L'assessore Fratt si era anche rivolta al dirigente scolastico provinciale Fabio Molinari e a quello regionale Luca Volontè, sottolineando l'importanza, nel limite del possibile, di mantenere il servizio a Triangia. Ma del resto i numeri, anche a Sondrio, parlano da soli. Nelle classi prime delle elementari cittadine, nati nel 2016, quest'anno ci saranno 163 bambini. I nati del 2017 sono 159, quelli del 2018 154. I nati nel 2019, coloro cioè che si iscrivono al primo anno della scuola dell'infanzia, sono invece 142. Nel 2020 i nati sono stati 119 e seppur abbiano subito un rialzo nel 2021, i numeri sono comunque sempre molto bassi, 134 bambini. È un grande dispiacere però sicuramente la scuola elementare andrà avanti con i suoi bei progetti di Eco School e non è detto che delle famiglie sondriesi decidano poi di iscriversi l'anno prossimo perché la scuola è lì e l'intenzione dell'amministrazione è sempre di mantenere anche la scuola dell'infanzia nel caso in cui le iscrizioni riprendessero e ci fosse interesse da parte delle famiglie sondriesi ad andare a frequentare quella scuola. I numeri parlano chiaro perché è chiaro che anche la nostra città e la nostra provincia subisce gli effetti della denatalità che hanno colpito anche noi quindi non siamo fiduciosi di poter riaprire però la disponibilità c'è. Del resto il calo demografico non lo scopriamo certo oggi a Sondrio. È un trend purtroppo in atto da tempo che difficilmente potrà arrestarsi in mancanza di politiche nazionali a favore dei giovani e delle famiglie. Il recupero di un materiale di eccellenza come il granito di San Fedelino unito alla bonifica è il recupero di una zona che in passato ha ospitato insediamenti industriali nocivi per la salute della popolazione. È lavoro portato avanti da novate mineraria che mira la riconversione al verde di una zona importante della Varchiavenna. Alla perplessità e alle polemiche di una parte della popolazione di quest'area abbiamo sempre risposto con un impegno costante nel recupero di una zona che nonostante un passato legato ad insegnamenti industriali nocivi per la salute della popolazione oggi assiste ad una riconversione che unisce il recupero di un materiale di eccellenza, il granito di San Fedelino, alla riconversione al verde perché a queste cave diverranno parchi. Il passato è un'altra cosa, questo è un nuovo capitolo. Il direttore generale di novate mineraria Dario Comini racconta ai nostri microfoni la storia di questa azienda nata nel 2011 e che proprio attraverso il recupero di questo importante materiale che dà origine alla ballast ferroviario è divenuta una realtà d'eccellenza e referente di rete ferroviaria italiana. Dal 2013 l'azienda parte con l'attività di coltivazione in cava ed inizia così a recuperare dall'antico giacimento in Val di Monte il prezioso prodotto trasformandolo in pietrisco ferroviario. È un prodotto molto importante perché deve avere specifiche caratteristiche tecniche di durezza, di resistenza e di resilienza. È un granito unico al mondo che ha caratteristiche veramente rilevanti dal punto di vista meccanico e della resistenza all'abrasione ed è il materiale, il granito di riferimento per tutti i graniti del mondo. Oltre al ballast ferroviario poi è qui che viene prodotto alto pietrisco e sabbie più fini fondamentali per tutte quelle imprese ed opere edili realizzate in Val Chiavenna e nella nostra provincia. Avevamo prodotto un progetto che veniva applicato sull'area Falca, dove ci troviamo adesso che prevedeva l'edificazione di un complesso industriale di produzione di conci prefabbricati. Era la soluzione più, diciamo così, naturale e con filiera cortissima per trasformare un prodotto locale, le sabbie e quindi le fini, per produrre calcio estruzzo. E conci che sarebbero stati destinati al tunnel ferroviario del Brennero, progetto abortito a causa di note vicende locali, nonostante un progetto bene concepito, investimenti importanti dall'azienda, possibilità di trasporto e impatto zero di materiale favorito dal raccordo ferroviario che unisce l'area Exfalc alla rete. Il nuovo impianto, qualora fosse stato avviato, si stima avrebbe dato lavoro a più di 50 operatori. Novate Mineraria stima di poter ripetere il progetto di estrazione del granito di San Fedelino e della riconversione verde intrapreso con i cantieri di Val di Monte, che proprio quest'anno verrà esaurito, con altri programmi del tutto simili al primo. Noi ci auspichiamo che lo sforzo di una società che non ha mai chiesto aiuto a nessuno, che si autosostiene e che dà lavoro comunque già oggi a una quindicina di famiglie del territorio, venga sostenuto anche dagli enti preposti. I cyberattacchi e gli hackeraggi, ormai pratiche tristemente note ed estremamente rischiose anche per le aziende, al centro di un incontro organizzato oggi a Sondrio nella sede di Schena Generali. Ne parliamo nel prossimo servizio. Hacker e cybercrime, un mondo sconfinato quello degli attacchi informatici, mai come ora una minaccia concreta per tutti coloro i quali, utenti della rete quotidianamente, divengono potenziali vittime di sistemi ben strutturati e dietro ai quali stanno soggetti, talvolta veri e propri team, esperti di tecnologie e strumenti informatici. E così l'incontro organizzato per il pomeriggio di ieri a Sondrio nella sede di Generali Italia è stata l'occasione per poter analizzare al meglio prevenzioni e soluzioni dinanzi alla minaccia del cyberrisk, il rischio informatico. Tre i relatori presenti, oltre a Generali, Cisco e Digimetrica. Tante, innumerevoli le tecniche ad oggi impiegate negli attacchi informatici e tutte in continua evoluzione. I mezzi di diffusione? Andiamo dai virus ai malware, dalle modifiche illecite di pagine web, i cosiddetti defacement, fino ai phishing, i mail che presentano un loco contraffatto e che vengono usate al fine di carpire all'utente le proprie credenziali. Tutti i mezzi attraverso i quali un pirata della rete può concretizzare tre modalità di attacchi. Accesso illegale a sistemi e dati, intercettazione di dati informatici ed interferenze create ad hoc con la finalità di cancellare o alterare quanto custodito nei nostri computer. Proteggersi dinanzi a quella che è divenuta nel tempo una minaccia tangibile, devastante anche in ambito aziendale, è possibile ma è necessario elaborare sistemi di protezione adatti e ritagliati attorno ad ogni singola realtà. Presentato dunque durante il meeting di ieri, Cyber Lion, un sistema elaborato da generali e che offre una concreta risposta a questo tipo di attacchi capaci di mettere a repentaglio tutto il lavoro di una realtà aziendale, con l'obiettivo di ridurre al minimo le potenzialità di un attacco cyber sull'attività di un'impresa o di un libero professionista. È tutto, grazie per essere stati con noi e buona continuazione. Grazie a tutti.